Salve a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere due uova di pasqua, uno Kinder e uno Mota di L'Unitunes e della Justice League. Iniziamo ad aprire prima quella della Mota e dopo Justice League. Prima vi farò vedere le due sorprese che ho trovato, Aquaman e Batsman. Speriamo di trovare anche Flash, che è il mio personaggio preferito. Dai, io inizierei con L'Unitunes, perché adoro L'Unitunes, che sono Batsman e Taz. Andiamo. Vediamo chi troviamo qua dentro. Cos'è? È un orologio di Kitty. Ed è carino. Vediamolo com'è questo norologio. Aspetta, prendo le forbici. Aggiustarla. Aspetta, iniziamo ad aprire. È un orologio spruzzacqua. Ed è molto carino. Titti. Eccolo qua. Allora, inseriamo un altro pezzo di cioccolata. E iniziamo ora a passare con la Justice League. Speriamo di trovare Flash. Non ho dubbi, se non troverò di più. No. Dai, ce la facciamo, dai. Vediamo. Speriamo. Dai. Speriamo qui dentro. Sì, lì. Ho trovato Flash. Il mio preferito. Sì. Flash. E' carino Flash. E vai. Sono veramente contento. Vedete un po' che bello? Ve lo faccio vedere i supereroi con Aquaman. E Batman. Però c'è un altro uovo. Speriamo di trovare anche Superman. Che ci manca Superman. Speriamo di trovarlo. Allora, ragazzi. Spero che questo video è terminato. Io vi auguro buona Pasqua ancora. Ciao. Auguri.